Allora, volevamo innanzitutto presentarvi questo evento di oggi, inaugurazione della nostra concessionaria Calvi Auto, presente da ormai quasi vent'anni o meglio vent'anni nel settore dell'automobilistico. Oggi però volevamo inaugurare il nostro connubio col marchio Kia Motors. Abbiamo presente tutto lo staff, clienti, amici, parenti e tutto lo staff appunto di Kia Motors Italia. Verrà presentata in alta e pila nazionale la nuova Rio, che è il segmento B della gamma Kia e che appunto presenteremo a livello nazionale sabato e domenica prossima, ma in questa occasione ci è stato dato il permesso di scoprire la vettura e tra un po' vi faremo vedere la bellezza del nuovo prodotto.